Sul Piave sono sparite le lepri. A segnalare la situazione non tanto le associazioni venatorie che, ricordiamo, si occupano anche del reinserimento dei capi, quanto le oltre mille persone che nell'inritto di Santo Stefano, ovvero la grande cattura sulle gravi di Saletual, sono rimaste di fatto a bocca asciutta. Immagini come queste non si sono ripetute dopo Natale e nemmeno nei giorni successivi, in questa zona dove mediamente venivano catturati oltre 100 esemplari, che poi la provincia provvedeva a liberare in altre zone, con lo scopo di rinforzare le nascite di primavera, altrimenti indebolite dai continui incroci dello stesso ceppo. Solo 25 esemplari quelli individuati, molti meno quelli finiti sulle reti, con una forte delusione per quanti hanno camminato per ore tra Saletual e il ponte dell'autostrada. Un vero e proprio allarme ambientale per la scomparsa di uno degli elementi di ecosistema nell'area del fiume Sacro. Allarme che arriva dalle associazioni dei cacciatori, che sottolineano come in altre zone le catture siano state in linea con gli altri anni, segno che qui qualcosa o qualcuno sta intervenendo su un equilibrio mantenuto da secoli. Diversa la lettura dei fatti da parte dell'assessore provinciale con delega relativa. Come mai 25 lepri in un'area dove una volta si catturavano centinaia e centinaia di lepri? Il discorso va dovuto particolarmente a problemi ambientali, sono stati fatti di grossi lavori per quanto riguarda l'adeolo dei fiumi e quindi la lepri si è spostata da parte fuori. Altre voci invece parlano senza mezzi termini di volpi sempre più numerose, ma soprattutto di bracconieri liberi di agire, perché la provincia, in ristrettezze, non riuscirebbe più a garantire il controllo delle guardie venatorie, con notturni straordinari drasticamente cancellati. Magari c'è qualche bracconiere, è questo comunitario, che viene pescato anche nella pesca, ma anche nella caccia, si parla di rumenie o qualcun altro.